il suo canale YouTube dove carichiamo poi la registrazione degli eventi per chi non è stato, non ha avuto la possibilità di seguirli in diretta, in streaming, diciamo. Forse ci siamo tutti. Vedete, giusto? Vedete me oppure vedete la presentazione? Sì, vediamo, vediamo, tutta la cosa, vediamo la presentazione. Ah, va bene. Allora, buon pomeriggio a tutti. Cominciamo questo nostro percorso. Alcune cose su di me le ha dette la collega, che ringrazio tantissimo per questo invito, Giuliana Fiorentino. Cosa dire? Per presentarmi è che sono come Giuliana una linguista e i miei interessi di ricerca riguardano proprio linguaggi istituzionali, speciali e mediali, per la comunicazione pubblica istituzionale. Entrambi questi due concetti, linguaggi istituzionali perché al plurale, perché speciali, perché mediali e comunicazione pubblica istituzionale saranno oggetto di questo nostro incontro. In particolare studio l'italiano istituzionale. Che cos'è l'italiano istituzionale? È una varietà della lingua italiana nazionale, quindi della nostra lingua, che viene usata nelle comunicazioni ufficiali, delle organizzazioni pubbliche e private. In particolare io studio l'italiano istituzionale che dovrebbe essere utilizzato, il condizionale d'obbligo, dalle pubbliche amministrazioni. Studio in particolare i tratti linguistici che poi sono distintivi di questa varietà della lingua. Vale a dire come si formano i termini, come questi termini vengono usati nell'ambito delle forme di comunicazione della pubblica amministrazione e come si costruiscono i tipi di testo per la comunicazione pubblica istituzionale in particolare. Quindi i miei studi sono relativi all'ambito comunicativo, che è un ambito, diciamo, di secondo livello rispetto all'ambito invece della comunicazione dei linguaggi istituzionali fonte. Secondo voi quali sarebbero i linguaggi istituzionali fonte? Ovviamente non è solo l'aula, è l'aula intera che dovrebbe interagire, quindi non soltanto i ragazzi che sono qui davanti a me, ma anche voi che in effetti rappresentate, come dire, forse il pubblico di riferimento per questi studi che maggiormente vorrei attrarre a questi studi. qual è il primo termine istituzionale che vi viene in mente? Vediamo se l'aula fisica vince l'aula virtuale. La costituzione forse? La costituzione, la costituzione è sicuramente un termine istituzionale. Stato è un termine istituzionale. Nessuno che si avventura in quelle belle paroline che stiamo acquisendo sempre più spesso. Nessuno. E vabbè, andiamo avanti. Come si articolerà questo percorso? Facciamo una riflessione sulla trasformazione digitale della pubblica amministrazione per poi passare a capire quali sono appunto questi... Si è bloccato lì, non vedono in aula lo scorrere delle slide. Ah, allora, aspetta, vediamo un attimo il perché. Scusateci. La trasformazione digitale obbliga anche questo. Allora, vediamo un attimo. Voi state vedendo solo... Voi vedete le slide scorrere, voi, dell'aula virtuale? No, c'è solo la prima pagina. Solo la prima pagina. Ok, va bene. Deve togliere la presentazione. Non deve battire. Togliere la presentazione, ok. Così state vedendo? Ditemi di sì, vi prego. Fai così, anche se... No, no, ok. Allora, aspetta un attimo che ricondivido. Allora, vediamo un attimo se... Stato non disturbare. Vediamo un attimo così. Che cosa succede? Se chiudo qui... Usciamo dalla riunione? No, non dovremmo uscire dalla riunione. O siamo usciti dalla riunione? No, no, no. Fai mi vedere. Sei sicura che sei tu la modalità di organizzatrice? Ora non lo so, però dobbiamo fare con quello che... Sì, ok. No, vediamo. Allora, vai. Allora, vai. Allora, vai. Però forse adesso, aprendola un'unica volta, se va in condivisione, va. Dovrebbe andare. Ciao. Se va in condivisione, va. Ok, vediamo un attimo. Ora è questa. Ditemi che state vedendo, perché il bordino rosso lo vedo. E provano a scorrere subito, vediamo. Cosa vedete adesso? Si, si, si vede. Si vede. Funziona, funziona. Ok. Problemi di trasformazione digitale. Allora, il nostro percorso. Allora, partiremo appunto dalla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Passeremo a quali sono i tratti distintivi di questa varietà della lingua italiana che dovrebbe essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni per poi finire a quelle che sono le competenze linguistiche che servono per la trasformazione digitale e quindi come la lingua italiana e tutte le lingue possono essere risorse per la comunicazione digitale. Allora. Già c'è un primo problema linguistico da affrontare. Alcuni documenti trattano di trasformazione digitale altri trattano di transizione digitale. Questi due termini non sono dei termini perfettamente sinonimi. Sinonimici. Perché non sono termini perfettamente sinonimici? Innanzitutto perché la lingua non ha veri e propri sinonimi. ha sempre dei tratti distintivi a livello semantico. E poi perché effettivamente transizione vuol dire passaggio da uno stato ad un altro stato, mentre invece trasformazione implica un cambiamento graduale che avviene durante questo passaggio. Tra i due termini, tra l'altro qui li vedete prese le definizioni dal vocabolario, dal dizionario della lingua italiana di Tullio De Mauro che potete consultare tutti, io ai miei studenti dico sempre è una grande risorsa quella di consultare il dizionario online sulle pagine dell'internazionale di Tullio De Mauro. Transizione è un lemma del lessico comune, trasformazione è un lemma del lessico dell'alto uso. Quindi trasformazione è anche più diffuso rispetto a transizione. E poi trasformazione, come vi dicevo, implica un cambiamento graduale, un cambiamento che avviene con un processo che implica una variazione interna. Quindi io preferisco il termine trasformazione al termine transizione. Ma lo Stato italiano non è che fa molto caso quando usa un termine invece di un altro. Invece per noi comunicatori la precisione terminologica dovrebbe essere una caratteristica del nostro lavoro molto importante. Per noi linguisti è ancora di più la precisione dei termini. Allora, che cosa si intende per trasformazione digitale della pubblica amministrazione? Per lo Stato italiano, che comunque si rifà i documenti della strategia dell'Unione Europea, la trasformazione digitale è lo sviluppo dei servizi pubblici digitali e l'adozione di modelli di relazione che sono trasparenti e aperti al cittadino. bellissime parole, ma come si fa? E per questo lo Stato italiano ha da poco, questo dicevo a Giuliana, questo è un documento recentissimo, un documento che è stato approvato dallo Stato italiano a fine di marzo ed è il documento sulla guida dei diritti di cittadinanza digitale. La guida sui diritti di cittadinanza digitale dice che ogni cittadino ha cinque diritti di cittadinanza digitale. L'uso delle tecnologie, il diritto all'accessibilità, il diritto all'identità digitale, il diritto ad effettuare dei pagamenti con modalità informatiche e il diritto a comunicare con soggetti del settore pubblico utilizzando esclusivamente buongiorno, utilizzando esclusivamente delle modalità e degli strumenti informatici. Sì, ma sempre veniamo alla domanda come, in che modo. Innanzitutto il diritto all'uso delle tecnologie sicuramente non è un diritto per tutti i cittadini e tutte le cittadine. C'è un grande ancora divide digitale che non facilmente potrebbe essere superato, così come anche il diritto all'accessibilità. Badate bene, anche questo termine accessibilità è un termine che nell'utilizzo in ambito istituzionale ha tanti significati. Noi linguisti diremo che è un termine polisemico perché accessibilità in questo caso, in questo ambito, implica la capacità dei sistemi e dei dispositivi di poter essere utilizzati anche da persone che hanno delle difficoltà cognitive, motorie e quindi con le tecnologie assistive. Sempre in ambito istituzionale, accessibilità significa poter accedere a tutte le informazioni, sempre in ambito istituzionale, sempre informatico, a tutte le informazioni che detiene la pubblica amministrazione. In ambito istituzionale ma più giuridico, l'accessibilità significa poter fare la richiesta di diritto di accesso ai documenti amministrativi, quindi la legge 241 del 90 che dà l'accesso documentale a chi però ha un proprio interesse qualificato a richiedere quei documenti, oppure l'accesso civico che è un nostro diritto ma di ultima generazione, nel senso che noi abbiamo acquisito questo diritto di recente, nel 2013, la possibilità di fare richiesta dei documenti e delle informazioni che detiene la pubblica amministrazione e che dovrebbero essere pubblicati e resi visibili attraverso i portali, i siti web nella sezione amministrazione trasparente che è la sezione della cosiddetta pubblicità legale, vale a dire di tutte quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate dalla pubblica amministrazione e quindi essere conosciute da tutti. però di fatto c'è un nuovo diritto sempre l'accessibilità aperta a chiunque defaccia la richiesta di qualsiasi dato della pubblica amministrazione a meno che questi dati non riguardano dati, informazioni non riguardano il segreto di Stato, il nostro debito pubblico è un segreto di Stato, il segreto statistico e altri segreti che comunque lo Stato continua a avere vale a dire che so alcuni dati che riguardano i siti contaminati e quindi come vedete questo concetto di accessibilità questo concetto giuridico di accessibilità ha diverse accezioni ed è un termine che è importante capire il suo utilizzo nei relativi contesti d'uso diritto ad effettuare pagamenti con modalità informatica e digitale anche questo in Italia non è tanto diffuso il diritto a comunicare con soggetti del settore pubblico utilizzando gli strumenti in modalità digitale e beh questo l'abbiamo imparato un po' tutti quasi tutti oramai soprattutto nell'università viene utilizzato speed per potersi autenticare stranamente le nostre caselle di posta elettronica non sono caselle PEC stranamente perché di fatto essendo caselle istituzionali dovrebbero essere caselle PEC comunque probabilmente in questo percorso di transizione o meglio di trasformazione digitale probabilmente arriveremo anche a questo ma vediamo poi in effetti questi diritti come lo Stato italiano intende farli raggiungere ad ognuno di noi anche questo documento molto recente 4 aprile quindi recentissimo dovrebbe essere i principi guida del piano per l'informatica della pubblica amministrazione il piano per l'informatica della pubblica amministrazione costa di nove principi guida che sono dovrebbero essere raggiunti entro il 2023 leggiamoli insieme perché facciamo anche un po' un esercizio di stile comunicativo della pubblica amministrazione quindi digital and mobile first i servizi pubblici digitali devono essere accessibili solo attraverso i sistemi di identità digitale speed cie cns che cos'è il cns soltanto voi che vediamo i ragazzi che sono carta nazionale dei servizi eh sì va bene voi siete però esperti della materia vediamo se i ragazzi mi dicono che cos'è cie chi parla la voce collettiva dice carta di identità elettronica lo speed oramai si è talmente lessicalizzato che tutti dicono come il fatto di Isee ma che qual è la forma polirematica di Isee non ce lo ricordiamo nessuno sistema pubblico di identità digitale cloud first le pubbliche amministrazioni in fase di definizione di un nuovo progetto di uno sviluppo di nuovi servizi adottano primariamente il paradigma cloud tenendo conto delle necessità di prevenire il rischio di lock it lock it scusate servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e che siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune api io dico api ma non si dice così sicurezza e privacy by design i servizi digitali devono essere progettati e derogati in modalità da garantire la protezione dei dati personali user centric data driven e agile le amministrazioni sviluppano i servizi digitali prevedendo modalità agili di miglioramento continuo partendo dall'esperienza dell'utente basandosi sulla continua misurazione delle prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello trasfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio trasfrontaliero by design once only le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni fornite dati pubblici è un bene comune il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese in forma aperta e interoperabile codice aperto le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo del software con codifica aperta come il caso di software sviluppati per loro conto e resi disponibili con il codice sorgente che cosa che tratti linguistici ha questo testo quale particolarità nell'ascoltare nel leggerlo potete riscontrare unica sulla sempre il nostro caro inglese o meglio o meglio l'euro english che è qualcosa di un po' diverso dall'inglese quindi ci sono molti termini soltanto in euro english soltanto anglicismi cioè il vostro orecchio dite pronto ho sentito qualcuno che ha detto qualcosa solo anche dei termini tecnici come api per esempio sì anche quello però nascerebbe come come anglicismo ma ce ne sono tanti altri interoperabile non è un termine come potremmo dire di alto uso e neanche comune ma anche servizio pubblico digitale sembrerebbe non un termine sembrerebbe lingua comune ma non lo è perché perché i termini di questa varietà linguistica hanno una particolarità anche se all'orecchio possono sembrare delle parole del lessico comune non lo sono perché non lo sono perché sono espressione di concetti giuridicamente rilevanti e quindi hanno un significato che è vincolante ed è posizionato è un significato che si evolve anche nel tempo forse molto con più velocità rispetto al lessico al lessico comune e questa è una grande differenza tra parole e termine la parola la possediamo tutti il significato diciamo che quando le parole sono di alto uso il significato è conosciuto da tutti quando sono comuni a volte qualcuno non lo ha questo significato specialmente i nuovi cittadini ma dei termini beh i termini devono essere precisi devono essere come diremo noi linguisti monoremati con un unico significato ma soprattutto bisogna ricordarsi che di questi termini bisogna averne cura perché cambiano cambiano con le leggi vengono in termine tecnico diremo risemantizzati e a volte capita anche di prendere le parole dal lessico comune e farle diventare dei termini terminologizzarle per far indicare un concetto specifico che in ambito istituzionale delle pubbliche amministrazioni diventa un concetto giuridico e un concetto quindi vincolante e allora veniamo al perché porto avanti questa mia battaglia dove voglio il plurale a linguaggi istituzionali e non linguaggio istituzionale perché di fatto i linguaggi istituzionali sono dei sistemi semiotici che hanno come scopo trasmettere dei dati delle informazioni dei contenuti diremo in generale istituzionali usando la lingua italiana in combinazione però con altri codici semiotici e si differenziano per scopi e per funzioni per questo sono delle forme espressive delle comunicazioni ufficiali delle pubbliche amministrazioni che possono essere comunicazioni specialistiche come quelle del diritto dell'amministrazione e comunicazioni divulgative quindi come quelle che devono riguardare le attività di informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione e quindi che devono essere comprese dalla maggior parte dei cittadini e quindi dall'intera collettività quindi dagli studi che ho condotto ho classificato i linguaggi istituzionali in linguaggi istituzionali speciali in linguaggi istituzionali mediali perché alcuni sono espressione delle comunicazioni specialistiche quindi del diritto e dell'amministrazione ed altri invece sono espressione delle comunicazioni divulgative e quindi sono dei linguaggi appunto che utilizzano anche altri mezzi di comunicazione ma soprattutto che utilizzano i linguaggi della comunicazione come sono la saturazione dei polinconi quindi valutare allora quindi ci sono due forme ci sono due forme di comunicazione specialistica e comunicazione divulgativa che sono appunto le forme della comunicazione specialistica sono utilizzano i linguaggi istituzionali del diritto e dell'amministrazione che hanno delle terminologie specialistiche di vari domini della conoscenza che sono gli oggetti della sfera di azione delle istituzioni e poi ci sono i linguaggi appunto della comunicazione divulgativa quindi della comunicazione pubblica e della comunicazione istituzionale e delle attività di informazione e quindi delle attività di informazione dove anche qui anche la parola anche informazione è un termine in quest'ambito specifico perché è un termine perché sta ad indicare informazione giornalistica e quindi giornalismo pubblico o giornalismo istituzionale siamo ancora in una dicitura un po' oscillante quindi sono forme appunto di comunicazione e di informazione che devono essere dirette ad un grande pubblico indifferenziato quindi al pubblico della collettività oppure che sono dirette a specifiche persone quindi cittadini e cittadine e queste forme della comunicazione divulgativa si affidano anche a dei linguaggi comunicativi che utilizzano i mezzi di comunicazione quindi i media e sono linguaggi comunicativi il linguaggio giornalistico il linguaggio pubblicitario e anche un linguaggio ibrido che è quello delle attività della comunicazione pubblica dico che è un linguaggio ibrido perché è un linguaggio che si sta affermando che ha come dire una storia recente quindi prendi un po' delle forme e delle delle forme espressive della comunicazione giornalistica prendi un po' di forme espressive della comunicazione pubblicitaria che sono delle forme comunicative tradizionali con secoli e secoli di storia veniamo a un a un pezzo del mio insomma del mio ultimo lavoro come vi ha detto Giuliana io ho partecipato al gruppo di lavoro aspettate un attimo cerco di non oscurare le slide ecco ci sono riuscita il lavoro sulla norma tecnica uni qua mi alzo un po' perché parlo così un po' abbraccio allora che cos'è una norma tecnica una norma tecnica è una laddove lo Stato non leggerà sì forse sì sì forse ok mi rimetto a posto no mi rimetto a posto allora la professione è il comunicatore di chi si occupa di comunicazione è una professione non regolamentata vale a dire che non è una professione ordinistica quindi le professioni regolamentate sono le professioni ordinistiche le professioni non regolamentate è il mercato del lavoro che decide quali sono le le competenze specifiche che deve avere il professionista la professionista c'è stata una la la comunicazione pubblica è un po' differente dalle altre forme di comunicazione perché differente perché di fatto un po' era sta è una forma di comunicazione disciplinata disciplinata che ha avuto un regolamento il 422 del 2001 che ha un regolamento del dpr 422 del 2001 che ha fatto sì che si stabilisse che lo stato italiano stabilisse che i titoli di laurea di scienze della comunicazione vecchio ordinamento e poi in seguito ovviamente il passaggio dal nuovo ordinamento quindi dal ciclo 3 più 2 fosse il titolo di ingresso per svolgere la funzione di comunicatore pubblico però di fatto come dire non c'è stato in seguito una definizione di profili professionali per le altre forme di comunicazione tipo la comunicazione politica la comunicazione tecnica la comunicazione del terzo settore e la comunicazione di impresa sono professioni che è il mercato del lavoro che decide quali sono le conoscenze le competenze professionali per cui nonostante ci fosse stato appunto un inizio di regolamentazione dello stato rispetto alla comunicazione pubblica istituzionale quando si è deciso quando le altre associazioni di comunicazione che rappresentavano queste altre forme di comunicazione quindi la comunicazione tecnica la comunicazione di impresa la comunicazione del terzo settore è la comunicazione politica hanno deciso di darsi delle regole le maggiori sigle di rappresentanza dei professionisti ho pensato che forse anche la comunicazione pubblica un po' abbandonata diciamo così non era stato ancora iniziato questo tavolo di lavoro che però vi dirò alla fine abbiamo prodotto un documento di riforma della legge ma come tutto quello che accade in Italia quando finisce un governo il nuovo governo lascia un po' nel cassetto il lavoro fatto dai governi precedenti comunque si è stabilito di fare appunto una norma tecnica anche perché a che cosa servono poi le norme tecniche le norme tecniche servono a fare i contratti perché per poter fare i contratti bisogna rientrare in quelle che sono delle caratteristiche che possono essere standardizzate e uniformate utili proprio per la contrattazione collettiva quindi in questo periodo abbiamo deciso appunto di fare questo gruppo di lavoro all'interno di Uni che è l'ente italiano di unificazione nazionale proprio in virtù del fatto che l'articolo 6 della legge 4 2013 che è la legge che istituisce che disciplina le professioni non regolamentate vale a dire la legge che riconosce che esistono delle professioni non regolamentate e che queste professioni hanno bisogno di una regolamentazione del mercato e quindi delle associazioni che decidono di categoria che decidono e capiscono quali sono le esigenze del mercato quindi quali sono le conoscenze e le competenze che deve avere un professionista e quindi io ho partecipato dando come dire contribuendo di fatto descrivendo qual è la definizione di comunicazione pubblica istituzionale per comunicazione pubblica istituzionale quindi per comunicazione pubblica perché facciamo una differenza e capiamo perché si intende ogni forma di comunicazione che proviene dalla pubblica amministrazione che è rivolta al dialogo con il cittadino e singolo e collettività in funzione dell'interesse pubblico nel rispetto delle diverse abilità linguistiche culturali e di genere per comunicazione istituzionale si intende ogni forma di comunicazione prevalentemente unidirezionale quindi da uno a tanti e quindi diretta alla collettività nelle forme dei discorsi pubblici le conferenze stampa ad esempio e delle campagne di comunicazione non so se voi avete fatto caso che sia il servizio pubblico televisivo sia anche altre emittenti televisive quando fanno passare i messaggi della pubblicità sociale sta scritto comunicazione istituzionale e quindi in effetti quello è il primo segno della definizione di questa nomenclatura le attività di comunicazione pubblica istituzionale sono finalizzate a garantire i diritti di cittadinanza stabiliti dalle norme e i doveri istituzionali della trasparenza amministrativa dell'accountability dell'accessibilità ai documenti alle informazioni e ai dati e ai servizi pubblici e sono finalizzate a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine alla vita democratica della nazione dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali che hanno per scopo la tutela dei diritti umani vi ricordo che di recente sempre per impulso dell'Unione Europea anche in Italia è stata recepita la direttiva 2 del 2017 che stabilisce la consultazione pubblica per le politiche pubbliche anzi ci ritorneremo perché poi ho una proposta da farvi alla fine di questo intervento quindi come vi dicevo questa è la definizione di comunicazione pubblica istituzionale data attraverso la norma uni che è la norma tecnica che stabilirà quali sono che ha stabilito quali sono le competenze le conoscenze che deve avere un professionista della comunicazione pubblica istituzionale e che possono essere utilizzabili per i contratti che per i bandi per i bandi come ma cosa c'entra in tutto questo la linguistica c'entra perché di fatto chi si occupa di comunicazione deve essere un professionista della parola dell'utilizzo delle parole dell'utilizzo delle parole proprio perché deve garantire l'accessibilità agli strumenti ai mezzi di comunicazione ma la prima forma di accessibilità che deve essere garantita è l'accessibilità ai testi della istituzionali e i testi istituzionali come abbiamo visto sono testi che sono espressione di linguaggi mediali e di linguaggi speciali di linguaggi speciali perché sono leggi perché sono direttive perché sono regolamenti perché sono statuti e perché sono anche sentenze anche il linguaggio giudiziario e processuale delle sentenze e delle corti è una forma di linguaggio istituzionale e poi l'altra forma di linguaggio istituzionale speciale è il linguaggio proprio dell'amministrazione e quindi bandi le circolari le delibere i moduli invece i linguaggi istituzionali mediali quindi i linguaggi delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzati sono appunto linguaggi che sono secondari rispetto ai linguaggi fonte che sono i linguaggi speciali perché riformulano le informazioni delle fonti primarie e come li riformulano li riformulano utilizzando dei mezzi di comunicazione che sempre più spesso sono cross mediali e anche convergenti proprio perché sono cross mediali quali sono questi linguaggi il linguaggio istituzionale mediale della comunicazione pubblica che come vi dicevo è un linguaggio più o meno ibrido perché prende un po' da linguaggio comunicativo giornalistico il linguaggio pubblicitario il linguaggio invece istituzionale per il giornalismo pubblico il giornalismo istituzionale il linguaggio pubblicitario delle campagne di comunicazione istituzionale. Che cosa hanno in comune questi linguaggi? Hanno in comune la lingua, la lingua nazionale che però questa specifica varietà di lingua nazionale, vale a dire l'italiano istituzionale che è una varietà della lingua nazionale che si è attestata nell'area della lingua standard, dell'italiano standard e attraverso dei differenti appunto usi linguistici perché dipende dai differenti linguaggi di comunicazione, i differenti linguaggi istituzionali. È una varietà linguistica che ha dei tratti caratteristici. Quali sono tratti caratteristici? Sicuramente ha dei tratti caratteristici a livello della sua superficie linguistica, vale a dire a livello del lessico e della terminologia e a livello della testualità. Quindi ha dei specifici usi di termini e l'abbiamo visto, l'abbiamo visto con la formazione degli acronimi che diventano, si lessicalizzano, cioè vengono utilizzati nella loro forma e a volte si perde anche la coscienza e la conoscenza della parola estesa. E anche differenti tipi di testo. Questa slide vi fa vedere lo studio che ho condotto rispetto agli usi linguistici dell'italiano istituzionale che appunto, come vi dicevo, si posizionano nell'area della lingua standard. Ora mi rendo conto che per chi svolge già un lavoro all'interno della pubblica amministrazione, questa parte più linguistica può interessare meno. Però ai ragazzi del corso di linguistica generale qualche parola in più, come da linguista, devo assolutamente dirla. Penso che voi già conosciate comunque questa struttura e questa forma di rappresentazione, perché è la rappresentazione degli assi della variazione della lingua. In particolare questa varietà ha una diversa articolazione, quindi c'è una variazione di tipo interno che è legata agli scopi funzionali e quindi pragmatici degli usi istituzionali e che quindi al cosiddetto polo alto della formalizzazione, del polo alto formale troviamo i linguaggi istituzionali speciali con le loro terminologie specialistiche. Pian piano che lungo la direttrice che in termine tecnico è detta della diafassia, vale a dire la direttrice della situazione comunicativa, che ha una doppia articolazione, un'articolazione di tipo verticale legata ai ruoli dei partecipanti all'atto della comunicazione, è una dimensione di tipo orizzontale legata alle diverse terminologie specialistiche che quindi ai diversi argomenti, ai diversi temi trattati dalla specifica istituzione. Quindi pian piano vediamo che c'è l'italiano istituzionale, quindi giuridico normativo, diciamo che il testo che abbiamo letto prima è un testo di linguaggio istituzionale, documento tecnico e quindi si posiziona nella parte alta degli usi dell'italiano istituzionale. Poi ci sono appunto i testi delle leggi che dovrebbero essere come dire accessibili a tutti, a volte non lo sono, a volte lo sono un po' di più, a volte lo sono un po' di meno, che sono appunto espressione dell'italiano istituzionale giuridico normativo, poi l'italiano istituzionale per la trasparenza amministrativa e per l'accountability. Secondo voi quali tipi di testo possono essere rappresentativi di questa articolazione interna della varietà linguistica dell'italiano istituzionale, quelli per la trasparenza amministrativa e per l'accountability. Che cos'è l'accountability? Però questo lo chiedo più ai ragazzi, perché voi sicuramente sapete che cos'è l'accountability. Allora, è una parola che Tullio De Mauro ha inserito nel dizionaretto delle parole del futuro, per questo poi diciamo che l'abbiamo come dire assunta e non l'abbiamo, non abbiamo trovato un equivalente italiano. L'equivalente italiano sarebbe rendicontazione sociale. Accountability significa che la pubblica amministrazione dà conto ai cittadini di quello che fa. Testi per l'accountability sono i bilanci di genere, il bilancio ambientale, i bilanci di mandato, sono tutti quei tipi di testo che danno conto ai cittadini di quello che la pubblica amministrazione ha fatto. Alcuni di questi testi di accountability sono normati, nel senso che il bilancio di genere, il bilancio ambientale dovrebbero essere fatti da tutte le pubbliche amministrazioni. Diciamo che forse la pubblica amministrazione dell'università queste cose le fa, le rispetta. Altre pubbliche amministrazioni non tanto. Per questo ho detto escludiamo il pubblico degli amministrativi da casa. E per me questi sono dei testi chiave della comunicazione pubblica. Sono dei testi che forse ogni cittadino dovrebbe richiedere, che vengono fatti e che vengono scritti bene, che vengono comunicati bene. Poi italiano istituzionale per l'informazione di pubblica utilità, il giornalismo pubblico e la comunicazione pubblica. Tipi di testo del genere sono le guide ai servizi, o meglio, il pubblico. guide ai servizi, ma anche infografiche. Sono tanti di questi testi, di queste testualità. L'italiano istituzionale per le campagne di comunicazione istituzionale e la pubblicità sociale, ve l'ho detto, più o meno sono le campagne di comunicazione, quindi tutto il materiale pubblicitario comunicativo. L'italiano istituzionale per la conversazione attraverso gli sportelli informativi e social media, come vedete, si va verso l'oralità. Io ve l'ho descritto come una rappresentazione che voi conoscete bene, perché di fatto è una focalizzazione della rappresentazione dell'architettura dell'italiano contemporaneo, che è stata elaborata per la prima volta in Italia da Gaetano Berruto nel 1987, poi ci sono state varie evoluzioni nell'architettura dell'italiano contemporaneo di Gaetano Berruto, venivano mappate le varietà della lingua italiana. Qui è come se voi lo vedeste con una lente di ingrandimento solo una varietà che in quell'architettura non era stata ancora studiata, non era stata ancora individuata. E quindi il quadrante che va, che viene verso di me, scusatemi, io lo confesso sono dislessica, per cui per me è molto difficile dire immediatamente la destra e la sinistra, quindi io dico il quadrante che va verso di me e il quadrante che va verso l'oralità. Allora, come vi dicevo, questa varietà linguistica ha dei tratti distintivi, questo ve l'ho già detto, quindi proseguo, vado avanti, la dimensione verticale, la dimensione orizzontale e come vi dicevo, tratti caratteristici della varietà dell'italiano istituzionale sono visibili subito, immediatamente, sia a livello testuale che a livello terminologico lessicale. A livello testuale, perché ci sono dei tipi di testo specifici, prima abbiamo più o meno detti, un bilancio è un tipo di testo specifico, ha una sua connotazione anche dal punto di vista degli altri codici semiotici, cioè del codice semiotico del tipo grafico visivo e appunto i lessici istituzionali sono caratterizzati dalle combinazioni lessicali prodotte dall'aggregazione del lessico della lingua comune, che generalmente è sempre la cosiddetta parola testa all'interno di una sequenza polirematica, vale a dire all'interno di una parola costituita da più parole, che però indica un unico concetto. Qualche esempio me lo fate? Di possibile termine istituzionale costituito da una parola, quindi da una parola costituita da più parole? Sappiate che è molto produttivo nella varietà dell'italiano istituzionale. Faccio io, faccio io. Allora, piano d'azione, centro per l'impiego, casa rifugio, come vedete sono tutte sequenze, nome, prep, nome, 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 ed è molto produttivo nell'italiano istituzionale, la parola testa è quasi sempre una parola del vocabolario di base, casa, centro, piano, seguita da delle parole che sono nessi di specificazione, sono determinanti, che danno il carico semantico, cioè che danno l'informazione che va a terminologizzare l'intera sequenza. Quindi come si forma questa varietà dell'italiano istituzionale? Si forma a tutti i livelli di articolazione del codice della lingua, si forma a livello del morfologico e morfosintattico, e l'abbiamo visto, morfosintattico soprattutto perché le sequenze polirematiche sono delle forme appunto di parole che hanno un accordo interno, quindi sono prodotto di una morfosintassi. A dei tratti connotanti anche a livello sintattico il modo di ordinare i costituenti all'interno di un enunciato. Spesso ricordatevi che l'italiano istituzionale utilizzato nelle forme di comunicazione pubblica, a volte sono molto presenti i titoli perché vengono prese dalla forma della comunicazione giornalistica e quindi l'articolazione di un titolo è sempre con una focalizzazione, quindi la focalizzazione tematica. Tratti a livello testuale, aspetta, ci sono delle persone in sala d'attesa, io poi vedo ma relativamente, anche perché non vedo bene. Io troppo dovrei prendere anche le presenze alla fine, solo una. Ma era solo una, però me lo diceva spesso. Non so se è sempre la stessa persona, non si riesce ad ammettere. Forse perché si è scollegata, forse è sparita. Voi continuate a vedere perché noi volevamo ammettere tutti praticamente. Allora... Sì, sì, vi vediamo. Ah, ok, grazie. Allora, questi tratti linguistici quindi rispondono a delle esigenze extralinguistiche che sono di natura socio-pragmatica, cioè sono legate a degli scopi e sono legate appunto a quell'articolazione della verità che abbiamo visto. E che cosa accade col processo di digitalizzazione? Che cosa accade della lingua col processo di digitalizzazione? Innanzitutto il processo di digitalizzazione prevede quindi una tripla codifica. Prevede una codifica verbale, però prevede anche la codifica digitale e prevede anche una codifica mediale. Perché, come abbiamo visto, i linguaggi comunicativi hanno una propria forma di codifica. Cosa succede ai testi digitali? Che i testi digitali quindi non sono dei testi che devono prevedere la leggibilità e la comprensibilità sola, le due appunto proprietà che devono avere i testi verbali, ma devono anche essere accessibili ed usabili, che sono le proprietà della codifica digitale. Quindi i testi verbali digitali sono condizionati dalla codifica digitale e dalla codifica dello specifico linguaggio comunicativo e dello specifico mezzo di comunicazione, quindi medium utilizzato. La codifica digitale e la codifica mediale computano i caratteri, indicizzano le parole per consentire la ricerca ma anche la condivisione dei contenuti. Quindi l'italiano istituzionale della pubblica amministrazione deve utilizzare però questi tratti distintivi per far comunicare meglio la pubblica amministrazione e per far funzionare i servizi digitali. E allora, quello che nella prima fase, quindi degli studi di Tullio De Mauro, degli studi di Maria Emanuela Piemontese sulla linguaggio amministrativo, ma anche degli studi di Michele Cortelazzo sul linguaggio amministrativo, si erano focalizzati alla semplificazione e quindi al raggiungere la comprensione da parte degli utenti umani attraverso l'utilizzo di un lessico comune, di una sintassi più semplificata. Però, paradossalmente, con la digitalizzazione i termini hanno una proprietà che serve molto alla codifica digitale e hanno una proprietà che serve molto a far funzionare i dispositivi digitali, che è quella di essere sicuramente dei veicoli per la precisione dell'informazione. Quindi, i termini specialistici, cioè che sono i termini che denominano dei concetti di un determinato dominio di conoscenza, hanno un significato specifico per quel dominio di conoscenza e in ambito istituzionale, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro, hanno un valore giuridicamente vincolante che viene riferito ad un unico concetto e non possono essere sostituiti da altre parole senza rischiare di perdere l'informazione. Per cui, termini come capitolato, consiglio comunale, firma digitale, sono dei termini che non possono essere sostituiti, a meno che non si utilizzano delle parafrasi. Ma utilizzare delle parafrasi si va contro l'altra regola della semplificazione, che è quella di preferire delle frasi brevi, perché il nostro cervello, funziona meglio della computazione di Google, perché processa più parole rispetto a la computazione della stringa di Google, però di fatto si va contro. E ma allora che cosa accade? Che cosa bisogna fare di questi termini, laddove questi termini non sono conosciuti dal grande pubblico? Beh, bisogna fare quello che è stato fatto all'inizio della nascita dell'italiano, fare le glosse, glossarli. Anche lo stesso codice dell'amministrazione digitale obbligherebbe le pubbliche amministrazioni a redigere dei glossari istituzionali. Quello che può essere evitato nei processi di comunicazione pubblica, soprattutto, è l'utilizzo dei termini collaterali, quindi dei tecnicismi collaterali, che sono dei termini che sono caratteristici di uno specifico settore, ma che non sono legati a delle effettive necessità comunicative, bensì sono legati a soltanto, sempre linguistica diremo, ad effetti di registro, cioè che fanno capire che si appartiene a una determinata comunità, ma non sono portatori di informazione. Quindi i tecnicismi collaterali sono quelli che devono essere semplificati e devono essere completamente eliminati. Mi fate un esempio di tecnicismo collaterale? Cioè di un termine che secondo voi non dà informazione, ma dà soltanto l'idea che si appartiene ad una comunità di esperti. qua lo chiedo soprattutto al personale amministrativo. Sì, c'è un elenco. Di niego! Il di niego! È terribile il di niego! E ora lo chiedo ai ragazzi, che significa di niego? Sì, è terribile il di niego! Rifiuto! È un rifiuto. Allora, anche i termini hanno una loro articolazione. Ricordiamo sempre la sinonimia per determinate parole. È, come dire, l'araba fenice. Per i termini esistono le varianti lessicali. E queste varianti lessicali sono quasi sempre la lessicalizzazione dell'acronimo e la sua forma estesa. La sì che c'è sinonimia. Perché è la stessa parola, solo che una è la parola abbreviata rispetto all'altra. Quindi esistono dei gradi di specialismo dei termini. Ci sono dei termini di alto specialismo. Abbiamo tutti, non tutti, conosciuto l'alto specialismo del SARS-CoV-2. Abbiamo avuto un medio specialismo che per un periodo si era relativamente affermato, poi ha avuto dei suoi problemi di affermazione, perché forse troppo breve, perché forse poi alla fine il basso specialismo, che teoricamente doveva essere un medio specialismo, il coronavirus, era una parola talmente formata bene in italiano, nonostante la sua formazione non sia una formazione perfetta per l'italiano, perché viene invertito l'ordine, l'ordine italiano è determinato, più determinante, l'ordine dell'inglese è determinante, più determinato. In questo caso è così, quindi segue l'ordine dell'inglese, però questa parola si è diffusa. Chi fa comunicazione deve tener conto anche di questo, deve tener conto dei gradi di specialismo dei termini e di come questi termini possono essere diffusi. E soprattutto deve tener conto che questi termini, solo quando ci sta la variante lessicali tra acronimo e forma estesa, ma poi, poiché sono termini, non hanno dei sinonimi perché comunicano dei concetti diversi. Qua ci sta, mi avevi chiesto, sì, forse c'era, però non fa niente perché sto vedendo che siamo già al 34, questa era l'unica cosa che... Però vediamo se... Vabbè, questo è un articolo della stampa di Anna Masera dove si fa riferimento a questa polemica che, insomma, che abbiamo portato avanti, soprattutto, devo dire, ad onor del vero, soprattutto la terminologa Alicia Corbolante, che cura un delizioso blog altamente istruttivo sul valore della terminologia, che terminologia, etc., che, appunto, notava che spesso per il mito giornalistico della variazione, cioè di dover utilizzare delle varianti lessicali per il bello scrivere, si faceva, si utilizzava il termine vaccino, si era antitodo come se fossero sinonimi, ma non lo sono. In comunicazione istituzionale e in comunicazione pubblica la precessione è un vincolo. Bisogna essere precisi, veramente lo dovrebbero essere anche nella comunicazione giornalistica, e i termini vanno trattati con rispetto del proprio significato. Perché vanno trattati con rispetto del proprio significato e i termini giusti? Perché, appunto, i termini diventano importanti nella comunicazione digitale. Perché, di fatto, se noi li utilizziamo come metadati, possono essere utili per l'indicizzazione SEO e possono essere utili soprattutto per l'interoperabilità semantica, vale a dire la capacità dei sistemi informativi di scambiare informazioni senza perdere pezzi di informazione. Quindi i termini sono dati, sono dati per il web semantico. Ed è importante, quindi, utilizzare questi termini. Così, come è importante questa parte qui, più o meno, ritorniamo appunto sull'altra questione della digitalizzazione che riguarda la testualità. Come abbiamo visto, ci sono dei testi, dei tipi di testo che rispondono a, come dire, a degli ambiti di comunicazione che sono normati dallo Stato italiano. Cioè, sono tipi di testo che devono essere pubblicati perché sono legati alla pubblicità legale, vale a dire alla pubblicità che deve essere fatta di provvedimenti, quindi bandi, esiti di bandi, che so, avvisi pubblici, e che hanno una funzione pragmatica di tipo prescrittivo. Quindi, tipi di testo legislativi, tipi di testo amministrativi, e anche alcuni tipi di testo tecnico-operativi, ad esempio, un avviso pubblico, un tipo di testo tecnico-operativo. Poi, la comunicazione per la trasparenza amministrativa e per la contabilità, abbiamo detto, è una forma di comunicazione che risponda ad una funzione pragmatica, strumentale, regolativa, quindi tipi di testo tecnico-operativo e testi per la contabilità, che l'abbiamo detto, testi per l'informazione di pubblica utilità che rispondono a una funzione informativa e sono tipi di testo informativi comunicati stampa, ma anche le FAQ, che sono una testualità molto importante nella comunicazione pubblica. Tipi di testo, appunto, delle news dei siti web, delle newsletter, ma anche delle infografiche, che è anche un'altra testualità che si sta molto affermando nella comunicazione pubblica. E poi l'altro ambito di comunicazione è l'altro tipo di pubblicità. Ricordatevi, a Monte c'è la pubblicità legale, che è quella degli atti amministrativi e legislativi, a Valle c'è la pubblicità di tipo sociale, di tipo che, come dire, ha la funzione persuasiva e tutte le forme testuali che rientrano appunto nel marketing territoriale, nel brand image. Io ho fatto una classificazione di questi testi. Perché ho fatto questa classificazione di questi testi? A cosa serve questa classificazione di questi testi? A me è servita a due scopi. Il primo scopo è quello di capire la distribuzione e l'utilizzo dei termini a seconda dei tipi di testo. E quindi mi è servita per tracciare quella mappatura dell'asse della diafasia per capire lo spostamento, l'addenzamento dei termini. Però mi è servita anche per capire che questi testi, alcuni, se rivedete la slide precedente, vedete che si fa riferimento alla vincolatività, cioè i testi molto vincolanti, i testi poco vincolanti. Francesco? Non mi ha dato una data di sensazione, ma a me non vediamo nulla. Io spero che sia stata, però... Allora, questa è... Questa prima colonna ha quattro aspetti molto vincolanti, testi poco vincolanti. Nella classificazione dei testi di Francesco Sabatini, i testi venivano divisi appunto in molto vincolanti, in molto vincolanti, a seconda del... del fatto comunicativo che avveniva tra lettore ed autore. La classificazione di Francesco Sabatini ovviamente vedeva tutti i tipi di testi, tutti i generi testuali, e quindi faceva riferimento a testi narrativi, testi... testi argomentativi, eccetera, e invece l'ho utilizzata per i testi che sono istituzionali e che sono rispondenti a questi ambiti che vi ricordo essere regolati da norme dello Stato. C'è la pubblicità legale regolata da una legge dello Stato, così come la comunicazione per la trasparenza amministrativa, l'abbiamo detto prima, e la comunicazione per la contabilità, pure abbiamo detto che è regolata, l'informazione per la pubblicoattività è regolata dalla famosa legge 150 per la disciplina delle attività di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, e anche in parte la stessa pubblicità istituzionale delle campagne pubblicitarie. Questi testi, la vincolatività, testi molto vincolanti, poco vincolanti, i testi molto vincolanti sicuramente sono dei testi formulaici, cioè hanno uno schema fisso che non può essere cambiato, un modulo ha uno schema fisso, ma così anche le leggi hanno degli schemi fissi, eccetera, in parte anche alcuni testi amministrativi hanno degli schemi abbastanza fissi. Io in particolare lavoro sulla testualità degli avvisi pubblici. E adesso vi farò vedere, e questo appunto non si potrà vedere mai, cerco di farvi comprendere che cosa è questa mappa. È una struttura di un tipo di testo istituzionale per la codifica XML schema. L'XML schema è una codifica digitale che serve per andare a creare a creare dei livelli di etichettatura delle strutture del testo. Quindi, quando il testo ha una vincolatività forte, ma anche alcuni testi amministrativi, noi, e anche un testo informativo come quello del comunicato stampa, noi possiamo andare a descrivere la sua organizzazione testuale e la sua prelevitazione secondo quelle che sono delle etichette di tipo logico-senaltico. Quindi, come vedete, anche la testualità serve per la codifica digitale. La testualità del codice verbale serve per la codifica digitale. Quindi, per la codifica digitale serve sia la terminologia e i termini con il loro dominio semantico e la loro capacità di essere dati che possono essere scampiati all'interno del web semantico, sia la testualità, le forme di testualità predefinite che vanno ad organizzare un tipo di testo secondo una codifica XML schema. Allora, e qui mi sono detta quali sono quindi i dieci modi per usare la lingua come risorsa per la comunicazione digitale. In parte sono quelli che noi abbiamo appreso per la scrittura, diciamo così, avere sempre chiaro il messaggio istituzionale ed organizzare il testo secondo una gerarchia delle informazioni, quella di prima era una gerarchia delle informazioni, che sia facilmente computabile per i linguaggi di programmazione digitale. Usare delle parole chiave che possono essere indicizzabili e le parole chiave che possono essere indicizzabili sicuramente sono i sono i i termini. Usare dei verbi performativi che servono a dare chiaro il messaggio, cioè il verbo performativo tipo ordinare, informare, vietare, autorizzare, sono seguiti dalle istruzioni di esecuzione, servono per far agire bene gli individui umani, ma anche per far agire bene i dispositivi digitali. Individuare il mezzo di comunicazione è più idoneo per il tipo di testo, tenendo conto dei suoi vincoli e delle opportunità che possono essere date dall'ipertestualità, dalla crossmedialità e dalla transmedialità. Usare l'ipertestualità per l'accessibilità e la trasparenza amministrativa perché servono a collegare i testi tra loro per collegare i testi dei documenti amministrativi e dei documenti legislativi ha le loro spiegazioni all'interno dei testi comunicativi. Ricordatevi sempre il rapporto è sempre testo-fonte riformulazione per la confrensione diciamo di una gran parte della popolazione che non può accedere al testo-fonte per il semplice fatto che il testo-fonte è un testo scritto con un'alta terminologia per gli addetti ai lavori. Creare dei registri e dei vocabolari controllati dai termini istituzionali con tutte le varianti lessicali per la metadatazione e per l'interoperabilità semantica verificare la leggibilità l'usabilità e la chiarezza del testo attraverso l'uso di strumenti per la misurazione ce ne sono vari software io in particolare collaboro allo sviluppo anche di Corrige che è un tipo di software per la qualità ortografica e per la leggibilità creare dei contenuti che sono adattabili e che possono essere rappresentati in modalità differenti ad esempio con dei layout che possono essere semplici per le tecnologie assistive sperimentare delle formule di mashup che cos'è il mashup è l'ibridazione tra i linguaggi per integrare quindi il testo verbale con altre modalità di comunicazione quali possono essere le infografiche quindi tutte le forme di database e poi misurare mirare scusate all'interazione per far partecipare attivamente i cittadini alla gestione della pubblica amministrazione però tutto questo per fare tutto questo c'è bisogno di una professionista della comunicazione professionista della comunicazione pubblica istituzionale è colui colei che sa utilizzare la terminologia specialistica spiegandola e quindi glossandola e quindi sa scrivere dei glossari istituzionali che ha la capacità di riformulare i testi fonte adattandoli per il mezzo di comunicazione e quindi passaggio dal testo legislativo amministrativo alla sua spiegazione capacità di bilanciare i diversi usi linguistici per rendere visibili i generi grammaticali e quindi per dare visibilità al genere femminile ma io parlo di di tener conto dell'autodeterminazione cioè anche di coloro di chi non si riconosce nel genere binario non sono per lo sua ma sono per forme di valutare all'interno dei testi istituzionali laddove è possibile anche oscurare il genere perché di fatto il genere da un lato va reso visibile dall'altro bisogna avere rispetto di chi non si considera binario e quindi c'è anche la possibilità di oscurare un lavoro che bisogna cercare assolutamente di fare di capire quali sono dei testi dove è possibile oscurare il genere o è possibile evidenziarlo e chiedere informazioni al proprio interlocutore la modulistica è un tipo di testo che può consentire questa richiesta di dichiarare anche il non volersi dichiarare o di voler riconoscersi come non binario e quindi riuscire a coniugare differenti rappresentazioni della persona offre sicuramente differenti visioni e per una eterogenea e complessa collettività in questo modo la comunicazione pubblica può essere contribuire al cambiamento culturale e può contribuire ai processi di digitalizzazione allora vi faccio una proposta è attualmente in consultazione pubblica la politica pubblica sulla semplificazione della pubblica amministrazione si chiama che titolo hanno dato cerco io posso cercarlo sul tuo allora credo che adesso non vedete però partecipa ah giustamente a me si apre subito a te partecipa via ok adesso vi ricondivido il video aspettate entriamo prima nella allora entro si allora condividi si finestra eccola qua eccoci qui allora facciamo semplice l'Italia e in consultazione pubblica come vi ho detto uno dei diritti ultimi che abbiamo ottenuto anche per promozione dell'Unione Europea è quello di poter partecipare con il nostro parere alle politiche pubbliche il dipartimento della funzione pubblica in particolare il gruppo di lavoro a cui partecipo che è l'OGP cioè l'Open Government Forum che è un gruppo nazionale ma all'interno di un organismo internazionale che serve per promuovere le politiche del Governo Aperto ha promosso questa consultazione pubblica che è appunto finalizzata a semplificare l'Italia in che modo semplificare l'Italia la semplificazione burocratica è un impegno del Governo sta portando avanti con determinazione ed uno dei pilastri del PNRR altro che poi per la mia R è bellissimo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che entro il 2026 è prevista la semplificazione di oltre 600 procedure per favorire il rilancio e la modernizzazione del Paese con una tappa che viene fissata nel 2024 per le prime 200 procedure che sono l'investimento sono tutte queste misure del PNRR quindi task force digitalizzazione monitoraggio e performance degli investimenti missione M.1 componente C1 pensate come è come dire questi documenti sembra la battaglia navale praticamente per questo è molto importante la glossatura e la possibilità nel momento in cui si fa un testo che serve per un come dire per un pubblico vasto la possibilità di avere un pop up che si clicca su ed esce che cos'è C1 e io voglio questo e quindi vi utilizzerò poiché fino al 18 maggio si può partecipare io ho delle proposte la proposta quella di fare in modo che si applichi realmente il CAD il codice dell'amministrazione digitale che dice che i siti web delle pubbliche amministrazioni devono avere deglossare istituzionali e che quindi la necessità di creare glossare istituzionali che possono essere utilizzabili anche per creare i pop up che danno subito immediatamente la glossatura del termine tecnico che viene utilizzato nei siti web si è una specie della pubblica amministrazione la pubblica amministrazione potrebbe pure farlo un suo wikipedia con no questo ci deve essere la redazione cioè sì 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 senza sì 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 lui forse lo diceva dal punto di vista del significato semantico ah ho capito sì lui dice il pop up sul google chrome cioè il plug in per fare il pop up di appunto su questo la professoressa diceva una cosa altra cioè diceva ma non può essere rimandato fuori ma dentro cioè deve essere stessa la comunicazione no qua la glossa deve essere di chi comunica il documento per questo è un lavoro che dovrebbe svolgere il comunicatore pubblico da questo punto di vista connettere i termini istituzionali ai appunto ai glossari attraverso appunto delle forme di taggatura inserire i termini istituzionali nei processi di metadatazione degli schemi dei template di di testo che vi ho fatto vedere prima cioè vedere intravedere prima creare appunto degli schemi XML per i tipi di testo che hanno una forte vincolatività anche se sono dei testi per la comunicazione e l'informazione delle pubbliche amministrazioni e connettere tutti questi glossari alla banca dati terminologica multilingue del Parlamento europeo che è la banca dati IATE perché? perché in questo modo noi avremo anche quello che viene richiesto adesso nel piano nel piano per l'informatica dell'amministrazione pubblica vale a dire la capacità di rendere i servizi digitali trasfrontalieri cioè se si crea il processo di metadatazione con i termini e questi termini sono collegati alla banca dati IATE noi avremo anche i termini in tutte le 27 lingue anzi 24 perché sono 27 paesi 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea certo alcuni termini sono specifici della pubblica amministrazione italiana ma tanti tanti termini noi le deriviamo dall'Euro English e quindi nascono lì e poi li importiamo ecco questo è quello che da linguista io vorrei che facesse che si tenesse conto di queste proposte per rendere come loro come come dice questa politica pubblica facciamo semplice l'Italia io credo di aver finito e quindi di avere il tempo per un dibattito io in verità volevo capire però non consisteva esattamente la tua proposta cioè vuoi formular una segnalazione io non l'ho ancora fatta la farò però poi per partecipare allora al momento io lo posso portare all'interno del gruppo di lavoro perché stiamo appunto lavorando su alcune cose in particolare sulla parte che riguarda il monitoraggio delle attività di come dire di diffusione dell'informazione delle politiche pubbliche che riguardano il PNRR rientra nell'attività del quinto NAP il quinto NAP sarebbe il quinto piano nazionale per il governo aperto questa politica pubblica chiede di partecipare rispondendo ad un questionario che ovviamente fa e in relazione a queste misure però c'è ancora la possibilità di chiedere di utilizzare questi strumenti linguistici per migliorare la comunicazione del PNRR chi mi vuole fare qualche domanda sì intanto adesso però vi chiedo diciamo il problema del linguaggio sinifizionale della lingua di adriano siccome l'italiano è tornato anche in altri paesi faccio per esempio la Svizzera perché per esempio la Svizzera di utilizzare anche in lingua di istituzione italiana quindi immagino che i problemi sanno gli stessi o quindi la mia domanda è ma c'è la possibilità ad esempio di poter interagire in caso la lingua è quella i termini sono quelli tipo se la Svizzera è riuscita a risolvere un problema per quel che riguarda non so la digitalizzazione ma sempre in Italia magari anche l'Italia ti rispondo in due modi il primo non bisogna mai perdere l'informazione che i nostri termini giuridici dipendono dalle nostre leggi si può fare un accordo anzi proveremo a fare questo accordo perché poi ve lo dirà la professoressa Giuliana Fiorentino su questo sarà un oggetto di un nostro lavoro di ricerca però ve ne parlerà lei siamo molto contenti di poter fare insieme questo lavoro di ricerca e quindi noi studieremo appunto l'italiano istituzionale che dipende da dalla fonte istituzionale italiana del diritto e diritto quindi diritto e dell'amministrazione italiana si può fare un dialogo con chi sta studiando l'italiano istituzionale della Svizzera Svizzero però tenendo conto che alla base ci sono due ordinamenti giuridici differenti certo sarebbe il caso di accordarsi su determinate terminologie che poi rappresentano lo stesso concetto questo sì questo sì sicuramente ovviamente non è solo il caso della Svizzera perché no 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 voglio aggiungere qualche altra cosa quell'altra cosa che voglio aggiungere è questa noi abbiamo le province autonome di Bolzano soprattutto il mio ultimo lavoro è fatto proprio con l'istituto Eurac che è l'istituto di studi sulla lingua per questo per anche in virtù di questa cercare l'equivalenza tra le lingue visto e considerato che la provincia autonoma di Bolzano prevede testi ufficiali in entrambe le lingue lì forse è ancora più necessario il rapporto perché in questo caso la provincia autonoma di Bolzano per quanto possa avere una propria legislazione come tutte le province autonome comunque deve far fede allo Stato italiano per alcune informazioni sì comunque è giusto anzi mi ha mi ha dato l'occasione di poter dire che sì noi dialogheremo anche con con gli svizzeri tra l'altro proprio questo stavamo dicendo oggi e forse ancora di più con con chi si occupa di tedesco istituzionale all'interno della provincia autonoma di Bolzano poi un'altra cosa riguardo la norma di attività a cui stabilisce diciamo quali sono le competenze ma soprattutto per quello che invece riguarda il dettaglio lavoro mi chiedo ma nella se se veramente come studiosi avete potuto constatare se diciamo la norma tecnica stabilisce cosa ma il come no quindi la mia idea è che magari ci sono dei periodi diciamo storici in cui magari è più forte ad esempio il termine aziendalistico e quindi può succedere che in una comunicazione pubblica vada sia messo in risalto magari il termine aziendalistico oppure giornalistico oppure non so ma ora io dico siccome la comunicazione pubblica istituzionale è importante perché comunque non è una comunicazione diciamo non voglio dire basso voglio dire una comunicazione che è rivolta appunto al simbolo e alla collettività e che comunque riguarda un interesse pubblico cioè comunque ha degli interessi alti diciamo allora volevo sapere se c'è stato qualche studio che evidenziasse questo diverso proposti del come cioè di seguire una corrente anziché un'altra allora diciamo che la comunicazione pubblica istituzionale a differenza delle altre forme di comunicazione sia la comunicazione giornalistica sia la comunicazione di impresa eccetera ha un problema che è legato alla questione che i termini rispondono a dei concetti giuridici gli altri no c'è una alcuni termini però anche dell'impresa rispondono a dei concetti giuridici se questo studio avviene sicuramente sì io il mio il mio studio sono le carte amministrative cioè tante bandi avvisi pubblici tantissimi bilanci mi sono occupata molto di bilanci di genere di bilanci ambientali in particolare mi occupo di una parte specifica del lessico della della gestione dei rifiuti e adesso poi mi sono dovuta occupare del lessico del covid perché per corrige c'era bisogno di sviluppare un term base cioè una una banca dati terminologica specifica dei termini che riguardavano la gestione dell'emergenza covid prego posso fare una domanda se a vantaggio loro cioè perché di queste cose a volte parliamo ma quali sono gli sbocchi professionali siccome questo corso di laurea non ha una specialistica quali sono gli sbocchi professionali che tu vedi o che suggerisci ai tuoi studenti nell'ambito della comunicazione pubblica istituzionale cioè alla luce anche in tutte queste normative che regolamentano le professioni eccetera allora io ti racconto una prassi che così ti fa venire sì no ti racconto una prassi io dico che ci potrebbe essere piena occupazione di chi si laurea in scienze della comunicazione anche triennale anche se la legge cioè il 422 del 2001 parlava di laurea vecchio ordinamento quindi quinquennale se si riuscisse effettivamente a fare in modo che tutte le pubbliche amministrazioni si dotassero di un ufficio relazioni con il pubblico e di altri sportelli informativi perché poi è vero che io negli anni scorsi ero contro perché dicevo lo sport nazionale e la pubblica amministrazione è la sportellistica cioè di aprire gli sportelli però effettivamente per determinate materie è necessario uno sportello specifico che non sia quello dell'ufficio relazioni con il pubblico allora vi racconto che cosa faccio fare io utilizzo moltissimo il diritto di accesso civico che è appunto questo nostro nuovo diritto di poter accedere a delle informazioni specialmente le informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate sui siti della pubblica amministrazione in particolare io faccio fare una parte monografica ormai da anni che è sulla gestione dei rifiuti in Campania che capirete ho sempre pensato che è un grande mercato del lavoro quello sicuramente e faccio fare queste richieste di accesso civico perché metto in crisi il sistema in che senso metto in crisi il sistema più arrivano richieste di accesso civico e più le pubbliche amministrazioni in particolare i comuni perché la richiesta viene fatta ai comuni si rendono conto della necessità di avere una persona che sappia organizzare i documenti amministrativi estraendo le informazioni ed estraendo i dati per darli al cittadino io faccio chiedere inizialmente ero un po' cattivella nel senso che facevo chiedere agli studenti i dati specifici sulla gestione dei rifiuti e quindi entravano veramente in crisi e nessuno rispondeva adesso chiedo i documenti perché ottengo due cose faccio in modo che i ragazzi i studenti abbiano questi questi documenti amministrativi da leggere comprendere e poi cercare di divulgare perché poi in fondo il comunicatore pubblico è colui colei capace di saper leggere un documento tecnico di saper leggere un documento amministrativo di saper leggere una legge e dare le informazioni e trasformarle in contenuti informativi e quindi in questo modo gli studenti hanno il MUD che è il modello unico di dichiarazione ambientale che è molto difficile come documento da leggere perché è una specie di bilancio poi fondamentalmente hanno le delibere dei piani di spesa eccetera e da qui traggono tutte le informazioni poi queste informazioni loro le sistematizzano in tre tipi di prodotti che ho come dire prototipato quindi un prodotto che è fatto da di un'infografica che serve proprio per dare tutte le informazioni per il diritto d'accesso civico del cittadino cioè di perché si paga tanto di Tari come viene calcolata la Tari qual è il piano finanziario di gestione dei rifiuti eccetera in questo modo gli studenti hanno innanzitutto hanno il primo rapporto probabilmente con il comune iniziano a capire come si fa una richiesta di accesso civico iniziano a capire in che modo si legge un documento amministrativo in che modo si legge un documento amministrativo complesso perché qua stiamo parlando appunto di piani finanziari stiamo parlando di delibere di capitolati di gestione di spesa e poi le riformulano in strumenti di comunicazione quindi appunto un'infografica il racconto in un data storytelling del servizio di gestione dei rifiuti ed anche altri tipi di infografiche che sono una linea del tempo che serve per fargli capire anche la gestione del liter amministrativo la gestione del piano di comunicazione eccetera in questo modo chi studia comunicazione pubblica studia la comunicazione pubblica facendola decisamente facendola e poi facciamo anche lo studio ovviamente linguistico estrazione dei termini e tutto il resto appresso altre domande voi forse avete l'ordine un altro corso io ho cercato di concentrare un po' tutto forse su alcune cose sono stata come dire un planer però allora ringraziamo ancora la professoressa voi vorrei salutare ringraziare chi ci segue da casa e se mi date un secondo scarico il registro delle presenze che mi sa che serviva non so se ci sono anche domande e questioni da casa però forse direi che a questo punto il tempo è scaduto noi dobbiamo lasciare l'aula alla lezione successiva grazie ancora Antonio mi faresti una gentilezza non mi ricordo più dove dove era dove si scaricava il registro delle presenze non vorrei fare pasticci prima di grazie di tutto arrivederci arrivederci ricordi su Kins dove scaricavano grazie di tutto grazie grazie a voi grazie grazie buone cose arrivederci alla prossima grazie era qua era qua però qua dove io intorno al canale generale poi dal canale generale allora innanzitutto chiuderei la registrazione che è la prima cosa da fare ok grazie